Bella a tutti e benvenuti ragazzi dal vostro Sharp 79 Siamo qui per questo video, questa è la classifica dei top 5 canali di febbraio Top 5 Siamo qui per questo video Front Mission Evolved Tutti i top giochi che sono assistiti praticamente lui ce li ha Ok, lui è Maximilian Termidor Mi raccomando iscrivete, lui è il quinto classificato della top 5 di febbraio Adesso passiamo al prossimo classificato che è il quarto classificato Che è lui, è One Retuner One Retuner anche lui è un grandissimo amico Facciamo i video insieme su Battlefield 3 Stiamo facendo una serie insieme come la sto facendo con Maximilian Lui è al quarto posto Lui a parte il fatto che gioca con me Ok, che è un ottimissimo compagno di squadra Ma è fortissimo Fa parte anche già del clan Battlefield 3 Lui è un modello che è insieme a me Cosa succede? Che lui ha un canale Lui ci mette tantissimo impegno ragazzi Io lo so perché lo conosco benissimo So l'impegno che ci mette So che non ha anche tantissimo tempo a disposizione Per fare queste cose Però le fa Le fa benissimo C'ha le grafiche spettacolari Lui è il mio amico One Retuner Io se Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi a One Retuner Lui è il quarto classificato È One Retuner Adesso ragazzi Prossimo classificato Terzo classificato ragazzi Lui è William Baylor William Baylor ragazzi Lui è troppo Lui è troppo 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 Nessuno Cioè allora io Per settimane Sono stato convinto Che i video che lui faceva Di GTA 5 Ok Perché lui doppia i video di GTA 5 Pensavo Fossero doppiati da più persone Ok Quando ho scoperto Che Era doppiato tutto quanto da lui Il video Ci sono rimasto C'è Perché lui è un fenomeno Cioè dovete assolutamente guardarlo Lui è William Baylor Lui è un mio carissimo amico È un genio È un fenomeno Guardate il suo canale Mi raccomando Iscrivetevi Lui è in terza posizione Ve lo ricordo Informazione di Luciano 93 iscritti Non è possibile William William Più iscritti deve avere William William Baylor Eccola la sua home page Mi raccomando Terzo classificato Adesso andiamo al secondo classificato Che è Axios 00 Axios ragazzi È un big Nel senso lui Non so come fa Ad averci 87 iscritti Io non la capisco sta cosa Lui fa dei giochi bellissimi Assolutamente da vedere Lui è un genio Nel commentary Lui è un fenomeno In questi giochi Allora Lui ha fatto Nilo Umbra L'ho detto giusto Nilo Umbra Nilo Umbra Così si dice No giusto Mi pare Dovete assolutamente guardare Specialmente la puntata finale Ok Guardate la puntata finale Davvero ha messo i brividi Questo gioco è bellissimo C'è una storia bellissima Lui fa dei giochi Spettacolari Per voi Adesso sta facendo Donkey Kong La nuova serie Che ha cominciato C'è l'epeso 2 Nel episodio 2 Guardate assolutamente Il canale di Axios E vedrete che io Non vi sto dicendo Le cazzate Perché se io Ve l'ho messo come secondo Questo canale Ok Nella top 5 Del mese di febbraio Ok Un motivo ci sarà Ok Chi segue Axios Lo sa che io Non sbaglio Ok Quindi lo sapete benissimo Che Axios Per me rimarrà Sempre Axios Axios Sei in seconda posizione Congratulazioni Adesso passiamo Al primo classificato Chi è il primo classificato Ed è lui Videogame 74 Ragazzi Lui per me È il Peter Pan In persona Lui è un Lui è un Non lo so di È un genio Ok Lui è fenomenale Lui fa tutto Lui fa tutto Lui fa i gameplay Dei giochi più assurdi Fa i gameplay dei giochi seri Fa le scenette Fa i racconti Sugli animali Fa Si inventa le storie Fa i contest Cioè Ve fa vedere No no Lui No no ragazzi Lui è spettacolare Lui è lui Cioè lui è Svideogame Perché Svideogame Sei il primo in classifica Perché ragazzi Andate a guardare il suo canale A parte che Svideogame Vabbè Primo in classifica Io non è che sto scemo C'ha 923 iscritti Non sono l'unico Che giudica questo canale Di altissima qualità Ok Andate a vedere I suoi video Mi raccomando Per favore Guardate i suoi video L'intervista Guardate l'intervista A William Baylor Guardate l'intervista Che ha fatto a Giangi Vi ammazzate dalle risate Ok Mi raccomando Lui è fortissimo Vi consiglio di vedere Sul mondo animale L'ultimo video Che ha fatto Tre settimane fa Quello del panda E la leggenda del panda Tutti bianchi Guardatelo assolutamente Io lui lo metterei Ai miei nipoti Ok In replay continuo Su un televisore Mentre racconta queste storie Ragazzi Svideogame E Svideogame Mi dispiace Primo classificato Tra i canali sponsorizzati Di febbraio Sei il primo amico mio Bravissimo Svideogame Ragazzi Ci vediamo Nel prossimo video Il prossimo video Se uscirà tra poco Sarà quello delle sponsorizzazioni Bella a tutti ragazzi Questi sono i top 5 canali Ci vediamo al prossimo mese Con i top 5 canali Di marzo Bella a tutti Dal vostro chat 79 Un bacio Con caduzioni A tutte e 5 ragazzi Bella Grazie a tutti